La pecorina è una delle mie posizioni preferite. Cosa? La pecorina? Senti tesoro, so, freddi questa scarpetta, va? Così magari puoi fare cenerentola, oppure se preferisci puoi fare la patina, non so, dici di tu, ma... Cioè, veramente io, sa, come dire, veramente io, sì, sei frocio, lo so, l'ho capito, sai? Ma come l'avete capito? Ma sono gay, sì, è vero, ma non si vede. Certo che si vede, ma no, non si vede. Certo che si vede tesoro, ma no, io sa, a volte li metto su un marciapiede, sto lì, faccio l'autostop, sì, lo so, poi ti danno 50.000, e così tu gli fai un bel pompino. E scammetto che questo nonetto qui lo usi come vibratore, ma anche se il grosso ti c'entra nel culo. Vabbè, senti tesoro, se vuoi fare dei spakings, stai la mia mano, ciao!